La maestra d'armi del Valhalla Il cui compito è armare e addestrare gli Aineriar di Odino E chi? Il suo esercito per il Ragnarok Unico motivo dell'esistenza del Valhalla Gli Aineriar attendono nella grande sala Bevendo, banchettando e sco... Fornicando senza fine Quando inizierà il Ragnarok Odino li chiamerà a combattere Gaerdrifull ha il suo bel d'affare ad addestrare quella gente Questa, amici miei, è Cara Le Valchirie sono irascibili per natura Ma Cara è una tempesta in carne e ossa Una tempesta? Già, calma e composta Poi l'aria inizia a muoversi E la furia della sua tempesta si scatena In un certo senso era uno spettacolo Se riuscivi a metterti al riparo Le sue lacrime mondano i campi di battaglia Ah, e qui abbiamo Eir, la guaritrice Una Valchirie guaritrice Strano In effetti Eir era strana Calma Tranquilla Le sue sorelle erano dei torrenti impetuosi Lei un pacifico ruscello Curava le ferite dei mortali e degli dèi E persino quelle di un saggio onnisciente Che una volta alzò troppo il gomito E cadde da un monte Ah, non ne vado, fiero Ah, non ne vado, fiero Ah, non ne vado, fiero